Allora, io non posso più vedere una partita di tennis ragazzi perché sto morendo dentro, è impossibile che una partita di tennis regali così tante emozioni, parliamo ovviamente della partita tra Yanni Kahnfman e Lorenzo Sonico terminata per 2-7-1 per il nostro tennis italiano che veramente ha recuperato una partita persa perché era letteralmente persa e invece ha fatto il miracolo. Intanto vi ricordo di lasciare un bel like al video, commentate con le vostre analisi, iscrivetevi al canale, in descrizione c'è anche Instagram, seguitemi e vi ricordo che in questo momento per stare vedendo il video sono in live su YouTube a seguire con voi Lorenzo Musetti, quindi passate anche lì per fare un saluto o magari per rimanere per guardare il live insieme a me. Partiamo subito, sulla carta Lorenzo Sonico era diciamo favorito, ok? Le sue ultime prestazioni sono state migliori rispetto al tennista tedesco e la cosa che avevo paura io è comunque del servizio perché Kahnfman è un tennista che di servizio fa il suo gioco. Oggi ha messo tipo 0 Ace, devo dire, però nel primo set l'80% delle prime che entravano erano punto ed è per questo che nel primo set si siamo trovati in una situazione di 5-0 dopo neanche 5 game. E lì mi storce un po' il naso perché ho visto Sonico abbastanza irritato, non riusciva a fare il suo gioco, molto fermo e dall'altra parte invece un fenomeno. E' successo poi che comunque Sonico 3 game li ha vinti nel primo set, magari un qualcosa in più per sbloccarsi poi nel secondo set. Che comunque nei 3 game vinti Sonico qualche giocata l'ha fatta, anche molto bella, qualche passantino c'è stato. Il problema è stato comunque nel servizio, nel servizio del tedesco non si poteva giocare, nel servizio di Sonico c'era quasi sempre il break. Nel primo set Anfman ha vinto tipo 20 risposte e invece Sonico ne ha vinte 7, quindi tipo il triplo delle risposte ha vinto abbastanza scontato quindi questa vittoria del primo set per il tedesco. Detto questo, 6-3 primo set si apre il secondo set. Si apre il secondo set, vedevo sempre Sonico un po' non ancora al 100%, ma dall'altra parte Anfman qualcosa ha regalato fortunatamente. Quindi tra un break e un contro break si va al tie break, questo maledetto tie break che parte con 4-0 in favore di Anfman e gli ho detto che è persa, è persa. Cioè 4-0 al tie break, come puoi recuperare uno che serve così bene? E sono iniziati i doppi falli e vabbè, doppi falli del tedesco fino a che non arriva a palla break, cioè a palla set, a set point personico sul servizio che sbaglia anche lì. Quindi si deve rifare un'altra volta tutti i servizi e tutto quanto, fino a che arriviamo sul servizio di Anfman e Sonico poi risponde molto bene. E quindi secondo set lo portiamo a casa con molta fatica. Terzo set che si apre subito con un break da parte di Sonico. Ricordiamo che Anfman stava 40-0, riusciva addirittura a recuperare, a breccarlo e niente, regà, e la partita finisce così. Sì, fortunatamente, regà, io sto tipo palpitando, sto morendo, perché non lo so, ora sto facendo il video ma devo andare tra pochi live con Musetti, quindi non so neanche come farò troppe cose. Allora, vi dico un attimo le mie prediction per questo ATP in Sardegna. Intanto devo fare i complimenti a Berrettini e Jacopo che anche se hanno perso contro Bolelli e Molteni, sì, hanno giocato molto bene. Berrettini è bello carico per Monte Carlo, quindi dai. E stavo dicendo, le mie prediction per questo torneo sono, secondo me, una bella finale Sonico-Musetti, ci può stare. Musetti oggi se la gioca contro l'Aslo-Ger, è difficilissimo batterlo, ma la seguiremo insieme, gli porteremo fortuna, chissà, chissà, chissà. Intanto giocheranno anche oggi Sonico-Vavvassori. Regà, ho detto tutto, io muoio, io l'ho detto che muoio con queste partite, è una cosa incredibile. Che poi ne manco a di, e no, perché comunque era sfavorito Sonico, no, era pure favorito, era favorito. Intanto qua trema tutto, mi sbaglio al primo set, rischia al secondo, madonna mia, proprio all'orlo, all'orlo. E al terzo set è così facile, perché poi alla fine l'ha chiuso facile e poi al terzo set, comunque i servizi li ha tenuti. Che cosa dire, che cosa dire. Intanto vi ricordo di lasciare un bel like al video, commentate, iscrivetevi. Regà, video è un po' più corto ma devo andare live, quindi ci vediamo in live. Bella a tutti.